Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica alle attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare, come anticipazione parleremo anche dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 di Arpat e vi presenteremo anche una mostra che è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzelio Ciampi a Palazzo del Pegaso. Approvato il bilancio d'esercizio 2021 di Arpat. Comitato per le celebrazioni per il centenario di Puccini, interrogazione in aula. Fili Toscana al voto, due atti collegati alla comunicazione della Giunta. Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra attorno alla Shoah. Via libera maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso al bilancio d'esercizio 2021 di Arpat. 21 ai voti favorevoli, 12 ai contrari. Come illustrato dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, l'Agenzia regionale per la protezione della Toscana registra un valore della produzione di 52 milioni e 874 mila euro. Tra le voci principali, da segnalare i contributi della regione per il funzionamento, che si attestano ad oltre 46 milioni di euro, e i ricavi per prestazioni di attività commerciali per circa 250 mila euro. Questo il commento del consigliere Francesco Gazzetti, membro della Quarta Commissione. È un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente, abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare, di supportare le attività di Arpat. E quando poi c'è da votare il bilancio, poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento, se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni, Arpat dovrebbe chiudere. Noi invece vogliamo che Arpat continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre. In alcune vicende, ad esempio quella del Cheo, io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di Arpat e della regione toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti. E quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che Arpat svolge. C'è da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis, nel quale noi ovviamente andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con Arpat un potenziamento anche del personale a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione. Un bilancio che chiaramente fa riferimento dal punto di vista tecnico a delle difficoltà che Arpat incontra innanzitutto sul personale, perché negli ultimi dieci anni il personale è qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche e quindi che deve essere un personale che ha un'età al di sotto dei 50 anni. In realtà oggi coloro che lavorano in Arpat e hanno più di 50 anni sono il 70%, quindi sono poche le persone a disposizione di Arpat per svolgere alcuni tipi di verifiche. E' anche vero che questo è un problema, come dicevo, che dura da dieci anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica, ma quello che a noi è interessato e abbiamo portato anche un ordine del giorno per far sì che ci fosse un progetto speciale, un atto di indirizzo da parte del Consiglio regionale. Per la prima volta il Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che Arpat deve svolgere. L'abbiamo fatto sul tema del Cheu, che crediamo sia un tema rilevante e importante che Arpat debba svolgere sui certi tipi di controlli e verifiche. Lo continueremo a fare perché quelli che sono i piani di sviluppo che poi Arpat presenta alla Giunta, noi come Consiglio, non li vediamo se non poi nella fase della discussione dei bilanci. E quindi crediamo che il Consiglio invece debba avere anche la propria autonomia e autorità e anche forza politica e coraggio di dare degli indirizzi di azioni su certi progetti speciali che Arpat può seguire. Si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023, quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne. Ma soprattutto il Direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'Agenzia si era posta di raggiungere nel 2021. Fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale. Tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'Agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale. Il Consiglio regionale ha inoltre approvato un ordine del giorno collegato alla delibera presentato da numerosi consiglieri del Partito Democratico e che vede come prima firmataria Lucia De Robertis. A proposito di questo ordine del giorno, Alessandro Capecchi ha osservato che è paradossale chiedere ad Arpat di occuparsi di Cheu quando non è partita alcuna bonifica e che questo era già contenuto nel piano di Arpat del 2021. Ma ascoltiamo il consigliere Capecchi. Arpat già nel 2021 era stata chiamata ad occuparsi di questa vicenda e quindi noi non abbiamo votato l'ordine del giorno del PD che chiedeva su questo fronte impegno perché di fatto l'azienda, l'agenzia doveva già farlo nel 2021 ma soprattutto noi poniamo l'accento sulla mancata realizzazione delle bonifiche. Qui si parla, si parla, si parla ma in realtà sulla 429, sul Green Park di Pontedera ancora ci sono i teloni a coprire il Cheu che è lì che continua a inquinare. Questo francamente è inaccettabile in una regione come la nostra, quindi l'occasione è stata anche quella di sollecitare la maggioranza e soprattutto la Giunta a intervenire tempestivamente al di là delle questioni burocratiche per riportare un segnale per i nostri concittadini che la Toscana è una terra libera e pulita. Una proposta di risoluzione del PD è un ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Sono i due atti di indirizzo discussi in aula collegati alla comunicazione di Fili Toscana svolta dalla Giunta lo scorso novembre in Consiglio regionale. Ad illustrare la proposta di risoluzione come primo firmatario il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. Nell'atto sono richiamati diversi impegni rivolti all'esecutivo regionale. Tra questi, ad esempio, quello di proseguire il percorso di riorganizzazione degli strumenti regionali per sostenere il sistema economico toscano che coinvolge Fili Toscana S.p.a., Sviluppo Toscana S.p.a. e Sici S.g.r., Società di gestione del risparmio, e a prendere atto dei primi esiti del procedimento di selezione, attivato per l'individuazione di nuovi partner industriali per il rilancio dell'attività di Fili. Respinto, invece, l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. L'atto invitava il presidente della Giunta regionale e l'assessore competente a informare il Consiglio regionale prima di sottoscrivere eventuali accordi di covendita, coinvolgendo dunque l'Assemblea regionale. Con il nostro documento sosteniamo il percorso che è stato avviato dalla Giunta e dall'assessore Marras per quanto riguarda la riqualificazione e per quanto riguarda la riorganizzazione degli strumenti a sostegno delle imprese e dell'economia toscana. Abbiamo assistito all'esito del bando che è stato pubblicato per la selezione di partner interessati ad entrare in Fili Toscana e a portare anche nuovo know-how e delle indicazioni per quanto riguarda l'attività che Fili Toscana potrà continuare a svolgersi. Abbiamo assistito in bilancio alla posta per l'acquisizione di Sici che dovrà entrare a fare parte di Sviluppo Toscana che è stata società in house individuata come lo strumento utile per andare in questa direzione. Abbiamo apprezzato anche quello che è avvenuto in attuazione della nostra precedente risoluzione vale a dire gli incontri con il personale di Fili che ha prodotto due verbali tesi proprio alla salvaguarda delle professionalità che sono presenti nell'ambito di questa struttura. Noi pensiamo che ora vadano valutate bene le proposte che sono arrivate per la selezione del partner, debba essere tenuta bene in considerazione la salvaguardia dell'occupazione e la valorizzazione del personale quindi crediamo che questo percorso che è iniziato vada nella direzione giusta. Fare chiarezza sulla gestione delle risorse per le celebrazioni pucciniane questo è il senso dell'interrogazione che il consigliere della Lega Massimiliano Baldini ha rivolto al presidente della regione Eugenio Gianni anche a seguito delle dimissioni del tesoriere del Comitato Nazionale che gode di fondi pubblici istituito proprio per organizzare le iniziative verso il centenario della morte di Puccini nel 2024. È uno stimolo ad agire ha risposto Gianni in aula la competenza della regione sul comitato è quella della mia presenza ma è un comitato nazionale che mette risorse nazionali complessivamente una decina di milioni. La presidenza è di nomina della presidenza del Consiglio quindi a chi compete lo sappiamo perfettamente certamente questo stato di cose è bene che sia portato alla massima attenzione il presidente Gianni ha detto che ne parlerà con il ministro della cultura quindi immagino che anche questo sarà un passaggio importante lo abbiamo detto tutti, lo ha detto il sottoscritto in Consiglio regionale ma lo hanno detto anche i sindaci direi sostanzialmente all'unanimità dal punto di vista delle contestazioni dei fatti e degli svolgimenti poi qualcuno è stato più morbido sotto il profilo delle eventuali dimissioni altri invece più rigidi però mi pare di capire e io l'ho detto in Consiglio che se la gestione di questo comitato, questo presidente non è in grado di portarlo avanti perché non ha più la fiducia del comitato ebbene le considerazioni sono chiaramente univoche anche perché un eventuale fra virgolette commissariamento del presidente non darebbe lustro al comitato e probabilmente non servirebbe a nessuno Chiedo che si metta attenzione sul comitato nazionale sono molto preoccupata, siamo tutti molto preoccupati per come si stanno succedendo i fatti all'interno del comitato c'è stata oggi un'interrogazione anche dell'opposizione a dimostrazione che non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico ma è proprio un tema di essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la provincia di Lucca ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione ci sono le dimissioni di un tesoriere e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il comitato cominci a lavorare in maniera totalmente diversa il comitato, e aggiungo anche, essendo della provincia di Lucca, anche la fondazione Puccini che deve essere protagonista, il presidente purtroppo è lo stesso apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del comitato mi auguro che il governo andrà sulla stessa linea Piano sostegno nei confronti del presidente del comitato, il direttore d'orchestra Alberto Veronesi è stato espresso dal consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi Veronesi è il presidente in carica del comitato per il centenario pucciniano sta lavorando, si sono riuniti anche ieri al comitato peraltro, quindi le informazioni che abbiamo affrontato oggi sostanzialmente al di là del modo molto più che tranquillo con cui sono state poste anche dal presidente Gianni non ci preoccupano, sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro che il comitato porterà a termine i suoi lavori ma soprattutto, lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini, da amanti della musica lo dico anche come lucchese lo dico anche come ex presidente di un altro comitato centenario che era quello di Carlo Cassola che è sepolto a Monte Carlo che dobbiamo lasciare lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze il professor Veronesi è conosciuto e stimato da chi lo conosce chiaramente e quindi anche da noi e ci aspettiamo sicuramente che per il 2024 saremo nelle condizioni di omaggiare il grande maestro Provengono dagli archivi alinari gli scatti in mostra a Palazzo del Pegaso che danno vita all'esposizione attorno alla Shoah, fotografie e memoria non dimenticare la tragedia dell'olocausto è lo scopo di questa iniziativa inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzelio Ciampi a poche ore dalla giornata della memoria Raccontiamo prima e dopo la Shoah raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili vado ripetendo sempre nelle scuole ragazzi di non essere mai indifferenti di non voltarsi dall'altra parte perché quello che è accaduto può accadere ancora La curatrice Paola Zamboni spiega come al centro della mostra vi sia il racconto delle persone colte nella loro vita quotidiana quella ordinaria che la Shoah distrusse in maniera irreparabile Ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati che come vedrete in queste sale parlano tra di loro A volte si finisce per rilanciare sempre di più per far vedere sempre di più invece in questo caso far vedere meno far vedere al di fuori e scegliere per dire per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei e però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita La mostra sarà visitabile fino al prossimo 4 febbraio È tutto, questa era la nostra ultima intervista Cronache e commenti torna la prossima settimana Cronache e commenti torna la prossima settimana